al limite dei 73 kg accogliamo con un grande applauso all'angolo blu per il Dimares One Marco della Gaccia un applauso per Marco della Gaccia il suo avversario dall'altra parte del ring all'angolo rosso per il team Ferioli da Roma Davide Armagini un applauso per Davide Armagini l'incontro si svolgerà sulla distanza dei 3 round da 3 minuti arbitra Lorenzo Mosca grazie 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 E allora leggiamo il verdetto, a 25 secondi dall'inizio della prima ripresa, vince per K.O. All'angolo rosso per il team Serioli, Davide Armanini! Ancora un grande applauso per Marco Nellagaggia! Grazie! 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 Grazie!